Vado subito a bloccare la mano che può dare, guarda, c'è il passo sotto, blocco, apro del salto e colpisco, questo ve lo tengo, lo asco completamente piano, vado dietro, lui mi fa le azioni e lo riporto davanti, colpisco, 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 bene, lo asco, indietro, una linea sola, mettendo distanza, blocco la testa, colpisco, dietro per gitto, subito, ok, da qua, porto fuori, inizio, avvado da conciutto un po' da colpisco, Sì, vado a portare il calcio sull'ingue. Vado a portare il calcio sull'ingue o a portare il calcio sull'ingue. Dovente a portare il calcio sull'ingue, portare il calcio sull'ingue. Grazie.